Dopo le tappe di Scanno e Pescasseroli, mercoledì il camion del tour della biodiversità organizzato dal Corpo Forestale dello Stato insieme all'Unione Italiana Cechi, sezione dell'Aquila, ha toccato Castel di Sangro. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere la rete Natura 2000, nata dall'Unione Europea, che si impegna così a proteggere gli habitat ad alto rischio e la sopravvivenza di molte specie animali. Nel corso dell'evento si è discusso sugli habitat e prioritari della rete, sul commercio illegale di animali e piante via distinzione, oltre che della rete IZE per sé. Il tema principale della tappa castellana era l'acqua, tema attualissimo in questi periodi di siccità, per imparare a rispettarla e mantenerla il più possibile sana e abbondante. Sentiamo le dichiarazioni del dottor Luciano Sanmarone. Il Tour della Biodiversità è un'iniziativa del Corpo Forestale dello Stato per favorire la conoscenza della rete Natura 2000, che è un insieme di aree protette, nate da un'iniziativa della comunità europea, la quale tende a creare una rete di aree protette, chiamate ai sensi della direttiva habitat SIC, cioè siti di importanza comunitaria, oppure ZPS, zone di protezione speciale. Nella nostra area, nel nostro territorio, sono presenti entrambi questi tipi di aree protette. Il processo per arrivare all'istituzione di queste aree è molto lento, basti pensare che la direttiva habitat risale al 92, in Italia siamo ancora quasi a metà del percorso che dovrà portare poi all'istituzione di queste aree. Il Corpo Forestale dello Stato sta lavorando con un progetto speciale, un progetto LIFE, a studiare un po' meglio le caratteristiche di queste aree che sono state individuate dalla regione e proposte ai ministeri competenti. All'interno di queste aree stiamo lavorando per vedere se e quali sono le specie individuate ai sensi della direttiva habitat come prioritarie, cioè quelle minacciate di estinzione, per esempio l'orso bruno piuttosto che la rosaria alpina che è un insetto, e quali sono gli habitat, cioè gli ambienti in cui alcune delle specie prioritari, parliamo di animali ma anche di piante, vivono. Tutto questo serve appunto a fornire le basi per una migliore conoscenza e quindi per una migliore gestione, da parte ovviamente degli enti preposti. Con il tour abbiamo cercato di sensibilizzare non solo i cittadini residenti, ma anche i molti turisti che in questi giorni sono presenti nel nostro territorio. Le tre tappe sono state Scanno, Pescasseroli e oggi Castel di Sangro e sinceramente abbiamo avuto un grosso riscontro di pubblico rilevando nel contempo che tutto sommato la rete Natura 2000 non è poi così conosciuta. E quindi alla fine abbiamo apprezzato la grande partecipazione e da questo abbiamo tratto grande entusiasmo per poter andare avanti. Americo Montanaro, presidente della sezione provinciale dell'Aquila dell'Unione Italiana Cechi. Cosa centriamo con la forestale? Praticamente l'Unione Italiana Cechi insieme al Corpo Forestale dello Stato stanno allestendo e adibendo delle aree forestali per renderle accessibili anche ai diversamente abili. E siccome ci sentiamo cittadini normali anche noi, partecipiamo a questo tour della biodiversità istruendo le persone che sono qui e facendogli vedere e riscoprire quali sono i cinque esensi. Essendo chiaramente noi privi del senso della vista, sfruttando meglio gli altri quattro sensi stiamo dando dei consigli alle persone di ascoltare la natura non guardandola soltanto ma anche esplorandola con gli altri sensi.